La gente non ne può più. L'amministrazione Melucci parecchi mesi fa ne ha combinato un'altra e ne parlo oggi, continuo a parlarne oggi perché raccolgo l'esasperazione. L'ufficio per la notifica degli atti del comune di Taranto è stato spostato da Palazzo La Tagliata al quartiere Tamburi, agli uffici comunali di Piazza dei Amicis. La cosa grave è che oltre ad aver messo in una zona più periferica della città questo ufficio, ma al di là di questo c'erano tante circoscrizioni, ex circoscrizioni e tanti luoghi certamente migliori dove allocarlo. Io l'avrei lasciato a Palazzo La Tagliata, ma al di là della ubicazione c'è un ostacolo grosso perché quando io entro per dover ritirare un atto, mi arriva l'avviso a casa, vedete qui ci sono le barriere architettoniche, c'è la rampa delle scale. Lo vedete? Allora questo diventa già un ostacolo per i disabili, quando prima a Palazzo La Tagliata era a piano terra, vedete? Allora voi immaginate il disabile che sta qui, una cosa assurda, una cosa sta qui, deve salire e ovviamente ha dei disagi enormi. Poi magari deve chiedere che qualcuno lo aiuti e quant'altro. È una situazione assurda, vergognosa, ma era necessario spostarlo qui, andando a complicare ancora di più la vita dei cittadini di Taranto, che già è una vita complicata. Palazzo La Tagliata era l'ideale. Non volevate Palazzo La Tagliata? Ci sono un sacco di immobili che appartengono al comune di Taranto che si potevano tranquillamente utilizzare, impiegare, destinare a quest'uso. Vedo l'amministrazione Melucci che assegna locali di qui e di lì alle varie associazioni, anche in città vecchia o in altri punti. Molte volte ci sono tanti amici, tutto lecito per carità, che ricevono amici degli amici, tutto lecito che ricevono locali per svolgere attività culturali o musicali o quant'altro. Tutto lecito, però, scusatemi, qualcuno di questi locali che si trovano a piano terra non potevano essere magari impiegati, destinati all'ufficio notifiche degli atti, anziché andare a trovare una soluzione tanto complicata quanto tortuosa. Questa è l'amministrazione Melucci, cari cittadini. Un'amministrazione che sa solo complicarci la vita.